se avete bisogno di ottimi attrezzi per il vostro giardino e il vostro orto pensate in arancione è arrivata un'ondata di colore arancione eccola qui finalmente still dopo anni di produzione di ottimi attrezzi come le motoseghe ed eccespugliatori e molto altro da quest'anno abbiamo anche nel mercato i trattorini i rasa erba le moto zappe e molta altra attrezzatura per cui facciamoci inondare di arancione ciao a tutti e buon lavoro